Ancora protagonisti i giovani del Tennis Club Sciacca sui circuiti regionali di Tennis. Negli assoluti provinciali, ancora una straordinaria soddisfazione per la giovanissima atleta del Tennis Club Sciacca, Alice Sclafani. Battendo in finale, infatti, Federica Amoroso nel circolo del Tennis Palermo, con il punteggio di 6-3-6-4, si è aggiudicata la finale femminile Open Lim, che si è tenuta presso il centro sportivo di Palermo. La crescita di Alice Sclafani arriva attraverso l'ottimo percorso seguito dallo staff tecnico del TC2 Palermo, con la partecipazione e collaborazione dell'istruttore saccense Domenico Caracappa. L'attività giovanile della locale scuola Tennis evidenzia quindi l'interessante lavoro svolto dal maestro Caracappa, con ulteriori risultati lusinghieri. Nella prima tappa provinciale del Fit Junior Program al Circolo Tennis Città dei Templi di Egligento, Vincenzo Catanzaro, infatti, ha raggiunto la finale. Grande entusiasmo, quindi, per tutta la società e per il presidente Vincenzo Sclafani, con il sudalizio che a breve sarà impegnato nel campionato nazionale di Serie C, con ambizioni importanti di salto di categoria. Nuova stagione agonistica e nuovo campionato regionale per l'Enduro Sprint. La prima prova si è già tenuta a Canicattì, con ai nastri di partenza sempre diversi piloti tesserati per il motoclubb Isciacca presieduto da Enzo Sant'Angelo. Alla gara hanno preso parte oltre 190 piloti, suddivisi tra mini-enduro, epoca e moderne. Il sudalizio Saccense ha schierato al Via 5 piloti. Si tratta di Nanni Becchina, Francesco Greco, Enrico Sabella, Marco Marciante e Massimo Marciante. Questi i risultati. Becchina si è piazzato al terzo posto nella categoria Major e trentaduesimo in classifica assoluta. Ottavo posto per Sabella, decimo Marco Marciante, undicesimo Massimo Marciante, mentre Greco ha chiuso settimo di categoria e trentacinquesimo assoluto. A breve partirà pure il campionato regionale di Enduro, con la prima prova prevista a Montalmano e Licona, nel Messinese. Al Via tra i Saccensi ci saranno Paolo Sant'Angelo, fresco vincitore del campionato 2021 di categoria, Nanni Becchina e Francesco Greco. I piloti del motoclub Isciacca saranno assistiti dal team Buttice in Moto di Raffadali. Obiettivo finale quello di ottenere qualche altro campione regionale, come più volte accaduto durante la stagione precedente. Grazie. 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 Grazie.